Nella facoltà. Noi come Fratelli d'Italia voteremo a favore di questo ordine del giorno. Nel quadro della più complessa battaglia che stiamo facendo per contrastare gli effetti nefasti di un decreto libera a tutti che ha come unico significato quello di spalancare ulteriormente le porte all'immigrazione clandestina. Questo è un decreto che per l'ennesima volta trasforma le coste italiane nelle porte girevoli di un albergo dove si entra e si esce a piacimento. Incuranti di alcune situazioni, e cioè che gli immigrati nel 1990 rappresentavano lo 0,8% della popolazione meno di 600.000 persone siamo passati nel 2001 a 1.400.000 persone oggi siamo oltre 5 milioni il che significa che la sinistra con questa politica demagogica ha cercato in ogni modo di fare dell'Italia l'unica piattaforma di approdo per ogni tipo di immigrati. E sotto questo profilo l'equiparazione anche giuridica tra profughi e clandestini è sicuramente clamorosa. Ma vede, signor Presidente, oggi i primi profughi in Italia sono coloro i quali vestono la divisa, gli uomini delle forze dell'ordine costretti a dover tutelare persone che vengono in questo Paese, delinquono e poi non vengono neppure condannate. Ma vi dirò di più a proposito dei clandestini i clandestini sono il nuovo oro nero per le mafie per le cooperative non vengono identificati per anni nonostante le norme internazionali siano di tre settimane e stazionano sul nostro territorio con costi enormi che ovviamente non vanno a loro ma alle mafie e ai politici di collegamento. Sapete di chi è questa opinione? Di Beppe Grillo prima delle elezioni politiche. Oggi noi abbiamo un Movimento 5 Stelle che guarda caso approva esattamente un decreto che prevede il contrario. E allora abbiamo assistito sul calar delle tenebre al governo Conte 2 che ha smantellato i decreti sicurezza che aveva approvato il governo Conte 1. e facciamo quindi del Presidente Conte un Giano Bifronte che affronta il tema dell'immigrazione a seconda della coalizione di chi lo sostiene Franzo Spagna purché lui rimanga al suo posto di Presidente del Consiglio. Ma vedete c'è qualcosa di più. Ieri è stato approvato un decreto legge da parte di questo governo. E' un decreto legge che prevede che gli italiani non si possano spostare non solo da regione a regione ma anche da comune a comune della stessa regione. Allora voi ieri per decreto avete limitato la libertà degli italiani oggi per decreto date piena libertà e licenza a scafisti e a clandestini. E' questo forse il significato della vostra politica in materia? E' questo ciò che gli italiani vi hanno chiesto? No certamente ma evidentemente per voi prima vengono gli altri e poi gli italiani per la destra verranno sempre prima gli italiani. ringrazio deputato grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.